con lui che si fa i selfie col sole secondo voi ci riuscirà a farsi un selfie? non so neanche se sentissi? vabbè questa è la taglia qui c'è un sentiero ma c'è la patata è chiuso? allora niente andiamo ma se è chiuso andiamo dai ragazzi sentiero chiuso dobbiamo riscendere tutto non so neanche Grazie per la visione!